Federico Palmaroli, creatore della pagina Facebook Le più belle frasi di Osho, autore del suo terzo libro dal titolo E so problemi, quando una foto vale più di mille parole. Cosa l'ha spinta a creare le più belle frasi di Osho? Ma nessun motivo in particolare, in realtà era soltanto un modo per alimentare il mio e quindi far ridere e poi in realtà è quello. Però è nato così per caso, aveva qualche obiettivo in particolare e non pensavo neanche che poi potesse avere questo successo. Osho diceva, sia uno scherzo per te stesso e sarai una benedizione per tutti quanti. Quanto ha fatto sua questa frase? Diciamo che questo è un po' il cardine, dovrebbe far parte dell'esistenza di ognuno, però soprattutto della mia, quindi l'autoironia per me è al primo posto proprio nei modi di comportarsi delle persone, dovrebbe essere per tutti così. E lui, Osho, effettivamente poi io questa frase l'ho scoperta dopo, approfondendo un po' il discorso di Osho, ed era una persona molto autoironica, infatti non capivo quando si risentiva nei suoi seguaci perché lo utilizzavo per fare eronia perché doveva essere, lui insegnava proprio questo in realtà, e non si poteva esimere da essere, quindi perculato anche lui. Qual è la gag che ha avuto maggiore successo finora e quale quella a cui è più legato? E a livello di numeri dovrebbe essere quella che feci quando ci fu quel MotoGP in cui Rossi e Marquez, il parente Rossi buttò per terra Marquez e misi Osho accanto alla Marquez che era caduto per terra e Osho diceva l'importante è che invece di farti niente voi le moto si riparano. Quella a livello di numeri è stata quella, una di quelle a cui sono più affezionato è una delle prime, una situazione di traffico, che in realtà non era una situazione di traffico nella foto originale, però c'era Osho con le sue famose mani ingiunte che si andava verso un uomo indivisa e io gli faccio dire dai i capo essi buono e col furgone ce lavorano. Cosa attende i lettori nel terzo libro della serie di Osho? Diciamo nel terzo c'è un po' di Osho ma c'è soprattutto, c'è tanto di inedito, il meccanismo è sempre lo stesso, quindi far parlare le foto in un certo modo, quindi reinterpretare uno scatto fotografico, però diciamo che c'è un po' di tutto, ci sono i personaggi dell'attualità politica, c'è il Papa, ci sono foto iconiche del passato, immagini di film, diciamo ci ho messo un po' tutto. L'utilizzo del dialetto romano potrebbe essere un limite per la diffusione in tutta Italia nonostante i quasi 600 mila like della pagina Facebook? No, non è un limite anche ovviamente se il bacino d'utenza è soprattutto Roma, però in realtà sono sparsi un po' in tutta Italia, quindi il romano come un dialetto non è neanche poi un dialetto, diciamo è una cadenza che è universalmente riconosciuta perché anche a livello cinematografico, quindi sicuramente quella, diciamo che poi una battuta come le faccio io, una frase detta il romanesco ha una forza maggiore, però sicuramente anche è spendibile anche in un altro contesto geografico, non allo stesso modo, però siccome parliamo di linguaggio di tutti i giorni, in realtà che sia Roma o sia un'altra parte geografica sicuramente l'effetto è lo stesso, certo il romanesco è ovvio che ha una forza diversa. Cosa vuol dire fare satira oggi? Ma per me satira in realtà è proprio questo, è un po' la reinterpretazione della realtà che tutti conosciamo, quindi quello che faccio io è essenzialmente questo, è un pensiero inconfessabile di un personaggio che siamo abituati a vedere sotto tutta altra veste, tutta altra luce e quindi renderlo anche umanizzarlo un pochetto, renderlo più vicino a noi. Un saluto da Osho a chi segue Crescere Informandosi e a tutti gli appassionati. Un saluto di Osho potrebbe essere racchiuso nel suo pensiero cardine che poi io ho romanizzato, lui diceva che un maestro non ti dà dei dogmi da imparare ma soltanto degli insegnamenti, dei consigli da seguire e io dico qual è il consiglio migliore che alla fine uno ti può dare fa un po' come cazzo le pare.